oh fai bravo un attimo ascolta scemo quanto sei stupido mio comunque chiesto ho chiesto ad alfonso che tu vieni fuori dalla casa entro io così casino succede veramente come stai o come stai a perché sei in un frigorifolo che ho fatto nella persona e non parli perché il telefono non posso darlo stop freeze per eno stai via e non si raccomando un attimo oh frank come stai bene e tu dove c'hai andato perché c'hai il virus mamma hai il telefono angel 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 ma basta urlare hai il telefono non miro ma amma ok oh parla tweet speak tweet no speak tweet speak tweet hey speak tweet dad that speak tweet diagogo coi è monte sei Grazie a tutti